È stata una forma fulminante di meningite da meningococco B la causa della morte di una ragazza di 21 anni residente a Faella. La ragazza aveva febbre a 39 dalla giornata di lunedì. La famiglia ha chiamato il medico che ha suggerito di assumere un antipiretico. In effetti ricostruisce una nota della ASLA e il medicinale ha fatto calare la temperatura nel corso della giornata. Nella mattinata di martedì la ragazza si è svegliata con dei segni sulle gambe. A quel punto i familiari hanno chiamato il 118. Gli operatori sono arrivati in pochi minuti ma hanno potuto solo constatare il decesso. Attraverso alcuni prelievi effettuati sul corpo della 21enne, Dalmaier è arrivata nel giro di poco tempo la conferma dell'ipotesi iniziale meningite da meningococco B. Immediatamente è stata avviata la profilassi con i familiari, i nonni, gli zii e gli amici ed è stata contattata l'azienda Usl Centro, visto che la 21enne lavorava in un locale di figline. L'azienda Centro ha contattato tutti i medici di famiglia, i pediatri della zona e coloro che nel posto di lavoro possono essere venuti in contatto con la giovane. La ragazza era vaccinata per il meningococco C ma non per il B. Il primo è un vaccino gratuito, il secondo, salvo che per i neonati, è a pagamento in compartecipazione ma le autorità sanitarie raccomandano sempre di sottoporsi anche a questa copertura.